Nono giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Capricorno. La chiesa ricorda San Giuliano Martire e Beata Alessia Leclerc. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Alessia. Il nome deriva dal nome greco Alexo e significa colei che protegge. Alessia è una persona piena di vitalità, ma a volte è un po' insicura e piuttosto permalosa. Accadde oggi. Il società sportiva Lazio, nata inizialmente come società podistica ad opera di alcuni atleti romani. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi che sono nati il 9 gennaio ricordiamo il cantante Domenico Modugno e l'allenatore di basket Dan Peterson. La citazione del giorno. Ieri è storia, domani è mistero, oggi è un dono. Per questo si chiama presente. Dal film Kung Fu Panda. Dice il saggio. Sii felice da vivo perché resterai morto per un bel pezzo. Il bel paese. Tutti sappiamo quanto i romani fossero degli abili ingegneri. Molte loro costruzioni sono intatte e fruibili ancora oggi, come il ponte romano detto di Sant'Angelo, che vanta il primato di ponte più antico d'Italia. Il ponte, detto anche di Annibale, si trova nel territorio di Scigliano, in provincia di Cosenza, e fu costruito nel secondo secolo avanti Cristo sull'antica via Popiglia, che da capua portava a Reggio Calabria. Attualmente il ponte, realizzato con archi in tuffo calcareo rosso, è tra i monumenti sotto protezione dell'UNESCO, ma inspiegabilmente è rimasto fuori da ogni circuito turistico, sia regionale che nazionale. Grazie a tutti.